Geronimo Stilton, che stratopica avventura è essere qui con i bambini del Salone del Libro di Torino? Per me le mozzarelle sono davvero emozionato. Stratopica avventura, hai detto? Eh sì, è proprio così. È una meraviglia essere qui nella cornice del Salone del Libro, per volare tutti insieme sulle ali della fantasia. Ho incontrato tantissimi giovani lettori e adulti, giornalisti, colleghi, scrittori. Insomma, siamo in un luogo incantevole, perché proprio qui, in questi giorni, si celebra l'amore per la lettura. Squit! Uno, due, tre, quattro, cinque... Almeno 150 paesi! Squit! Insomma, amo scrivere per tutti. E forse questo messaggio è arrivato oltre mare, oltre oceano, volando, andando ovunque, in almeno 52 lingue! Sono ancora elettrizzato! Squit! Io credo che ci sia il valore di quello che cerchiamo di trasmettere. Nei miei libri, nelle mie storie, racconto del valore dell'amicizia, di cosa significa esserci per qualcuno, allungare la zampa quando è necessario, è doveroso, perché il valore va custodito, va protetto, e gli amici, l'amicizia, va coltivata come essendoci. E quello che consiglio a tutti è sempre di essere curiosi, curiosi nello scoprire nuove realtà, viaggiare, conoscere, perché solo così possiamo forse ampliare la nostra conoscenza e far accrescere la curiosità che vive in ognuno di noi. Squit!